Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato ai giochi gratuiti in arrivo su PS4 e Xbox One attraverso i relativi servizi di abbonamento nel mese di agosto mese storicamente abbastanza fiacco che questa volta, però quest'anno, non sarà più tale perché di giochi interessanti ne arriverà più di uno e cominciamo questa volta da Microsoft che con il suo Slime Rancher dal primo al 31 agosto proporrà un'esperienza sandbox molto molto colorata e per certi versi anche un po' malata perché tutto ruota intorno all'utilizzo di un aspirapolvere tutto fare con cui potremo assorbire e lanciare praticamente qualsiasi cosa è chiaramente un prodotto orientato più su un pubblico di giovani e giovanissimi però vista la grande varietà di attività proposte credo che potrebbe risultare appetibile anche a qualcuno di un po' più stagionato a livello di età poi abbiamo dal 16 agosto al 15 settembre abbiamo poi Trials Fusion un prodotto che personalmente non ho amato alla follia semplicemente perché non amo i Trial and Error però non possono riconoscere l'effettivo valore di un'esperienza che sicuramente manderà in estasi tutti gli amanti di questo genere ci sono un sacco di prove da superare un sacco di prove che metteranno a dura prova non solo le vostre abilità ma anche la vostra freddezza e il vostro stato mentale per cui se volete approfittare di questa possibilità fatelo ben conci che potrebbe costarvi uno o più pad poi per quanto riguarda i giochi retrocompatibili ecco che arrivano le cose un po' più interessanti perché dal primo al 15 agosto abbiamo il primissimo Baionetta il miglior action game che sia stato sviluppato negli ultimi 15 anni probabilmente un prodotto solidissimo un prodotto bellissimo sotto ogni punto di vista un prodotto che in un certo senso non ha avuto poi neanche la fortuna che forse avrebbe meritato perché come ben sappiamo il suo sequel arrivò solamente su console Nintendo ma questo primo capitolo è tutto ciò che un appassionato del genere potrebbe desiderare c'è tanta azione, c'è comicità, c'è una buona storia ci sono un sacco di boss fight al limite della realtà per cui fatevi un favore e approfittate di questa cosa perché veramente merita di essere giocato, rigiocato, 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 rigiocato cosa che mi piacerebbe poter dire anche di Red Faction Armageddon che sarà disponibile dal 16 agosto al 31 agosto e che non posso dire Red Faction Armageddon è un gioco che per certi versi ha abbandonato quello che Red Faction sapeva fare bene ovvero basare un po' tutto sulla distruttibilità ambientale per proporre un'esperienza un po' più vicina ai TPS che tanto andavano di moda al tempo del suo debutto sul mercato è un prodotto mediocre complessivamente mediocre però considerando che è gratis considerando che tutto sommato qualche ora di divertimento la regala potrebbe comunque soddisfare parecchi appassionati del genere per cui nel dubbio, visto che è gratis dategli un'occhiata e poi fatemi sapere com'è passando poi al mondo Sony questo mese si può esultare di nuovo perché anche questo mese forse complice il recente annuncio che l'abbonamento al Plus aumenterà Sony ha proposto delle cose abbastanza interessanti leviamoci subito di torno al discorso dei giochi PS Vita in Crossby con PS4 in cui troviamo Dunwell un platform indie in cui tutto si fa tranne che salire perché si scende, si scende, si scende e non è che vi farà credere al miracolo è un gioco così per passare il tempo un po' come Level 22 uno stealth game ambientato in un ufficio in cui l'obiettivo è essenzialmente quello di sfuggire allo sguardo dei propri superiori per non lavorare quindi un po' diciamo un gioco che sarebbe adatto a tante realtà comunali italiane per allenarsi poi abbiamo per quanto riguarda i giochi nati e pensati per PS4 abbiamo Just Cause 3 il primo dei due Just Cause 3 è un gioco tutto sommato piacevolissimo un gioco tutto sommato solido ha i suoi difetti come poi abbiamo visto e detto in passato ma è sicuramente un bel prodotto da ricevere gratuitamente è un prodotto che vi divertirà un prodotto che vanta una buona longevità per cui preparatevi a un'esperienza molto esplosiva molto appassionante molto ricca di cose da fare perché appunto il bello di Just Cause 3 è che si può sperimentare e fare veramente di tutto e a chiudere l'offerta di di questo mese del plus oltre al dimmi chi sei il solito party game da giocare con gli smartphone abbiamo Assassin's Creed Freedom Cry che è l'espansione stand alone di Assassin's Creed Black Flag è un gioco incentrato su un ex schiavo divenuto assassino un gioco che dura approssimativamente 5-6 ore un gioco che si concentra esclusivamente sulla narrazione perché complessivamente non è certo un Assassin's Creed che resterà negli annali però ha una bellissima storia la varietà di situazioni è un po' limitata la longevità è un po' limitata ma in termini puramente narrativi è sicuramente uno degli Assassin's Creed più riusciti paradossalmente perché ha un cast di personaggi veramente ben caratterizzati tra cui soprattutto il protagonista e nel complesso diciamo che è una valida aggiunta al già pregevolissimo universo di Assassin's Creed Black Flag per cui diciamo che complessivamente anche questo meta sul plus non è andata affatto male detto ciò ovviamente però adesso tocca a voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa offerta mensile sui due servizi di abbonamento fatemi sapere quale delle due realtà vi piace di più e quale di questi giochi avete puntato per voi detto ciò ragazzi io vi ringrazio per sempre e vi do appuntamento alla prossima ciao ragazzi musica 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 musica